Ma guarda ragazzi che ripresa, ora indubbiamente abbiamo cambiato, Scorsese in confronto a te niente ma le cose sono cambiate, ora abbiamo Giulia, Giulia che devo dire indubbiamente io ci parlo anche più volentieri, non so perché ma mi sembra abbastanza evidente, Giulia ci spieghi questo progetto perché abbiamo visto un tricolore qui, un diadema gigante quindi una versione quindi diversa come formato, ma tricolore? Il tricolore nasce chiaramente dalla volontà comunque di essere creduto onorati, di essere italiani e quindi di eseggiare unità d'Italia anche noi nel nostro tra virgolette piccolo comunque commercializzando un prodotto che come blend si parla comunque sempre del Sangiovese Cabernet Merlot e Sirac con 16 mesi di beric, quindi il prodotto rimane lo stesso internamente ma abbiamo cercato di lavorare il packaging in modo diverso da celebrare anche noi con i 150 anni, sicuramente è un prodotto questo diverso nel grande formato ma che si svilupperà comunque dalla 5 litri, 3 litri, litro e mezzo e 0,75, tutta la linea diadema quindi dei vini rossi avrà questa etichetta in cristalli di Swarovski colorati e la particolarità è che sarà in commercio solo fino al 31 dicembre del 2011. Quindi affrettatevi perché evidentemente 150 anni ci sono una volta sola quindi è questo il motivo? Giusto, assolutamente sì, è comunque una bottiglia unica, una bottiglia che rimarrà unica in quanto dal 31 dicembre in poi non... Senti ma per noi che siamo dei veri, capito, sbevassone io ho questa... No perché ti sei un pellegrino, io sono un pellegrino e giustamente allora se lo sapevo... Nello zaino... Io gliela chiedevo e me la portavo in giro, ma che nello zaino? Questo è il trolley, dico bene? Questo è il trolley e assolutamente possiamo provarlo così che... Insomma se avete sete signori qui è l'ideale, io se lo sapevo me lo portavo in pellegrinaggio Nei momenti di sconforto sul muraglione... Vedi? Sembra di portare chissà... Allora avete bisogno di un po' di riserve? Eccolo qua... Ho visto la giu a Rosete, la padiglione accanto... Cominciamo a fare il giro... Cominciamo a fare il giro, vero e controllo